Presentato questa mattina al Palamagnola di Ovindoli l'inserto del centro, ecco lo sciabruzzo che troverete domani in edicola insieme con il Quotidiano. Ne parliamo con l'assessore regionale al turismo Damario, con l'assessore regionale allo sport e al bilancio Quaglieri e naturalmente con chi ha ideato questo progetto il collega Domenico Ranieri del centro Damario, sciarri in Abruzzo. Tenga, tenga pure l'inserto. Perché sciarri in Abruzzo? Sciarri in Abruzzo perché le piste abruzzese oramai non hanno nulla da invidiare ai grandi comprensori del nord, perché c'è grande professionalità da parte degli operatori, perché le piste sono sempre in ordine, perché i servizi sono appropriati e quindi per questo venire a sciarri in Abruzzo. Quanto l'Abruzzo punta sullo sci e quanto l'Abruzzo punta sul turismo invernale? L'Abruzzo punta molto sullo sci e sul turismo invernale, tant'è che sta investendo moltissimo per quanto riguarda l'ammodernamento degli impianti e la crescita dell'offerta turistica e quindi anche dei chilometri di piste sciabili. È un Abruzzo che ci tiene molto, oltre che da un punto di vista strutturale fa anche un'operazione di marketing territoriale importante e di grande valore. Domenico Ranieri, eccolo qui, il magazine che troveremo domani in edicola con il quotidiano Il Centro, il contenuto di questo magazine. Sì, vuole essere da un lato un veicolo di promozione della nostra regione, delle bellezze della nostra regione, dall'altro una guida per l'inverno abruzzese, che è l'inverno dello sci, ma anche l'inverno di quello che c'è intorno allo sci. Quindi non solo neve, ma soprattutto neve. Questo è un periodo in cui per esempio di neve ce n'è poca, speriamo che arrivi. E allora noi diamo anche dei consigli su come vivere la stagione invernale in Abruzzo, in mezzo a queste splendide montagne che sono già quasi innevate, ma noi confidiamo che arrivi la neve e arrivi velocemente. Poi ci sono le mappe di tutte le piste da sci d'Abruzzo, che è importante, questa è una cosa importante, così ci si può orientare anche per chi volesse avvicinarsi a questo sci, a questo mondo, anche a questo sport. E allora non resta che augurare buono sci a tutti, naturalmente in Abruzzo.